Lo spot della Liguria, è bello che c'è la canalis, no? La mia Liguria Certo, tipicamente Ligure lei Curbo Ligure La mia Liguria, una regione che io veramente amo Benvenuti alla prima puntata di Kashmir incontra Netflix, un Tudum morbidissimo Che meraviglia, che meraviglia Finalmente qui, finalmente qui A casa, sobri A casa, sobri, sì, io ho messo proprio la prima cosa che ho trovato Anch'io Posso tentarla con una delizia al limone? Allora, possiamo portare un decaffenato al tavolo 4 Abbiamo ancora un poco di spazio per il dessert, ragazzi Limoncelli, nocino, qualcuno, un meloncino C'abbiamo un meloncino che è la fine del mondo Che boh che si fa la venda, signora Venite da Luca e Edoardo Trattoria, prezzi modici Sì, prezzi modici, perché no? Prezzi modici Però Camerieri, elegantissimi Non si è risparmiato però sulle paillette Che meraviglia Che meraviglia essere qua Ospiti sul canale YouTube di Netflix Ah, sì, sì Per queste puntate speciali dedicati a Sanremo Una manifestazione di cui forse non si parla abbastanza in Italia No, credo di no, credo di no Era giusto far sentire anche le nostre voci Sì, assolutamente, è una manifestazione folcloristica La quale noi stiamo cercando di dare un po' di visibilità Era giusto che qualcuno si impegnasse a farlo Dare una mano dopo 70 anni Quanti anni sono? Questo è il? Che anno è di Sanremo? 72esimo 72esima edizione del Festival di Sanremo Ma saremmo potuti venire ospiti qui sul canale YouTube di Netflix Senza i grandi protagonisti dei Kashmir Ok, pensavo delle precedenti edizioni di Sanremo Tutti quanti i cantanti Esatto, Nilla Pizzi Gatto Panceri Una grande Gigliola Cinquetti Al suo posto Lei non è potuta venire È venuto Tahir Usain Ciao Ciao Tahir Come stai? Come stai? Tutto bene, tutto bene Hai visto ieri la Ho visto, ho visto Già i miei pronostici Ai tuoi pronostici sui vincitori Bene Adesso tra un minuto veniamo da te Il Maurizio Mosca di Sanremo Esatto Con il pendolino Con il pendolino Ma un saluto anche dalla regia audio A Carmelo Avanzato Ciao, ciao a tutti Ciao Ciao Carmelo Anche tu hai i tuoi pronostici Le pagelle Sì, sì Delle macumbe Cosa hai fatto? Voglio essere il polpopol Il polpopol E così ti serviamo per secondo Abbiamo questa insalata di polpopol Abbiamo questa tartara di polpopol Questa è proprio nominale Ma e poi ovviamente presentiamo la grande quota Come si suol dire? Rosa La quota rosa Quest'anno Noi un passo indietro Voi un passo avanti Cecilia Tanasio Buonasera Buonasera Alice Oliveri Le ballette di questo No, no, no Questo non lo accettiamo Questo non lo accettiamo La V word Allora, avete apprezzato questa prima puntata? Io molto Dove c'è il fiorello io sono contenta Alice si è scaldata ieri sera No, io Cosa è successo? Cosa non ti ha scaldata? Forse le edizioni passate di Amadeus Erano un pochino più frizzanti Forse Eh ma il terzo album È sempre più difficile Il terzo album è vero È vero Diamogli tempo Perché ieri ricordiamo Più o meno verso la fine Ha salutato il festival Cioè ha ricevuto All'onore efficienza C'è stato uno strano momento Le chiavi della città Sì, il fiore d'oro di Sanremo La palma d'oro era proprio praticamente Sì, una palma d'argento Che si ricorda il lungomare di Sanremo Presumo Mai stato Non saprei Non ho la minima idea Però è stato un bel momento E è durato anche Ha avuto anche una durata Tranquilla No? Sì, sì, sì Molto asciutto Molto Sì, non si è vista l'alba Praticamente Rispetto alle idee precedenti Non si è fatto after Per andiamo con l'ultima canzone Alle 5.45 di mattina Esatto Mentre parte il TG Con il pubblico dell'Irston Mettice le n'arte Anche noi non siamo Andiamo Stavolta Dai alzati Franco Alzi Ah Franco è morto Esatto E no Grandi momenti Si è partiti con il botto Si è partiti con il botto Con l'Achillone nazionale Ricordiamo Achille Lauro È diventato un intellettuale Italiano Cioè ormai abbiamo deciso Che Achille Lauro Tu hai C'è una classifica Cioè Alberto Moravia Umberto Eco Achille Lauro Molto sotto Pasolini Ed è quindi insomma Una voce Una voce che Che noi dobbiamo ascoltare Ieri hai salito sul palco A torso nudo Sì Sì Come faceva a non sudare Sudà fiottato Litri di sudore C'aveva un deodorante Incredibile Sai quando vedi quelli Stick 48 Towers Così L'edizione Sanremo No sweat Per 48 ore Non versi una goccia Ed eravamo tutti in attesa Di un grande momento Incredibile Di rottura Che succedesse qualcosa Invece c'è stata una grossa Come si suol dire Si è dato una sistemata Come si dice a Roma Si è dato parecchie sistemate Molto scaramantico Molto Molto scaramantico Sì 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 No e credo Cioè Per la partita della Salernitana Si scopre Chi le lauro Grande Qualcuno gli ha detto Guarda che sicuro vincete E ha passato tutta l'esibizione No c'è un seta braga Sto pure sul parco di Sanremo C'è un simer fantagalcio Stai calmo Per favore Pazienza Tutti grandi Grandi Sono filate via lisce Una dietro l'altra Quest'esibizione Sì devo dire Scaletta molto asciutta Si ama professionalissimo È vero Sembrava Amadeus non sbaglia una parola In italiano Dal 1982 Credo È impressionante Mi fa ridere Quando gli viene Quella voce Da vocalista Di discoteca Fra Roma Nord E Ibiza Allora adesso ragazzi È il momento Fate un grande applauso A Ciori E arriva Ciori E quel momento lì Quando arriva Fiorello Che ieri ha dominato Lo show come sempre Quanto ride Amadeus Non riesce a non ridere Sembra che stia Per avere una infise Cioè Qualcosa di Trovate uno Che rida le vostre battute Come ride Amadeus Pensa a provare I tuoi pezzi Con Amadeus Poi vai sul palco Non sai mai se vanno bene Sì è difficilissimo Fiorello voto Come se noi potessimo Dargli un voto In Italia tutti danno voti All'altro voto Posso dare un voto Posso dare un voto Posso dare un voto Fiorello È un grande sempre Sempre un grande Molto diciamo Si parla di lui Quando c'è lui Sul palco Credo di sì Sì Tende un pochino Un pochino A polarizzare L'attenzione su di lui Sì Sì Pensa al suo terapeuta Che bel lavoro Lavoro difficile Sì guardi Lei è qui da tre ore Ora dovrebbe entrare Anna Man Ti faccio un'ultima canzone Un ultimo pezzo Ti racconto un ultimo sogno Davanti alla tomba di Freud Con Freud che nella tomba Divo Ora basta Grande grande divertimento Tra l'altro ieri è andato Sanremo Oltre a Amadeus Ad averci rubato il look Ci hai voluto anche rubare Un grande ospite Di la verità Ospite che già fu qui A Kashmir Podcast Esatto Il grande Matteo Berrettini Che salutiamo Che era lì con tutta la famiglia Ciao Jacopo Salutiamo anche Jacopo E tutta la famiglia Berrettini È salito sul palco Professionalissimo Super super Sembrava Pippo Baudo Matteo Berrettini Ieri sera Ha dominato il palco Dell'Ariston L'ho visto un po' asciupato Si è un po' rovinato Matteo Non è più bello come un tempo Eh lo so Sì pure io infatti Lo guardavo e pensavo Meglio io di lui adesso Sì sì Chiaramente E Cecilia era d'accordissimo Cecilia si è sentito Ha detto Un metro dal microfono Ma si è sentito comunque Si è entrato sul palco Si è crinato un vetro a casa Sì esatto Ha prodotto un ultrasuono Tipo un delfino Sì sì Si è crinato il tavolo Dell'ingresso Esatto Allora Edoardo Tua esibizione preferita? Mia esibizione preferita Mamoud Blanco Obiettivamente hanno dato molto Hanno dato molto È stato un bellissimo momento Secondo me Poi sono favoritissimi No mi sembra Sì sì Sono molto favoriti Io però ieri ti ho visto Molto entusiasta Durante l'esibizione O la presentazione Orietta Berti E l'amico Fabio Rovazzi Ah molto bello Che salutiamo Che salutiamo Sì 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 Quello è stato un bellissimo momento E posso dire che Il vestito di Orietta Berti Mi ha ricordato Il virus del covid Lei aveva le spike Sul vestito Era Non so se era un omaggio Non lo so So bene come l'abbiano voluto Un'antenna 5G Outfit più bello però Della serata Ti posso dire Sì outfit più bello Della serata Ha voluto osare Ma la costumista O il costumista Di Orietta Berti Chi è? Burioni credo Non so Galli Non saprei Sì sì no Quello sì è stato Un bellissimo momento Sì Un momento Sponsor Anche il solito Momento sponsor Sempre stupendo Della regione Liguria Regione Liguria Regione Liguria Grande protagonista Del festival di Sanremo C'è sempre il momento Liguria Una regione Stretta Abbiamo le montagne Abbiamo il mare Abbiamo strade impraticabili Da 187 anni Vieni a Sanremo Se ci riesci Questa dovrebbe essere Una regione in cui Non ti vogliamo Tu mi stai infame Non vogliamo E tu sei milanese Ne sai bene Mamma mia Come vi trattano I Liguri Quando arrivate a casa Peggio rispetto a tutti gli altri Se hai il mio accento In Liguria Ti menano Ancora Senti invece ho visto Che tu ti sei emozionato Molto per Anna Mena Allora Se io avessi Sì Cinque anni Cinque anni Se pesassi 22 chili E potessi chiedere Ai miei genitori Vi prego Portatemi sul Brucomela A un parco X In una zona Y Di una grande città Sarei entusiasta Di sentire Lo straordinario pezzo Scritto a Rocco Hunt Cantato da Anna Mena Pau 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 Bellissimo Ti fai un giro sulle giostre Che è la fine del mondo È vero Sì Quando tu senti quella canzone Sapore di Dragostea d'Intei Hai ragione Sì Cioè Associ quella canzone Ragazzi Cinque colpi Dieci euro Venti colpi Diciotto euro Bellissimo Una bomba Sì sì è così Posso prendere l'orsacchiotto grande Diamo l'orsacchiotto grande La bambina che ha vinto il premio Diamo l'orsacchiotto grande Al 34enne Che stava girando Su Brucomela Con dei bambini Se per cortesia puoi scendere Ragazzi Sei al decimo giro Se puoi lasciare il suo posto A persone Bella quella Ma la mia canzone preferita È quella di Darjean D'Amico L'ho sentita tre volte stamattina Sì lo senti sì Anche mentre ci stavamo mettendo questi vestiti È una bomba A voi piace a te È bella A me molto Sì sì Io sono d'accordo con la classifica Un po' deluso Perché polemica? Perché Darjean è molto bravo a scrivere Una delle penne migliori nel rap italiano Quindi mi aspettavo un po' di più sulla scrittura Sulla scrittura? Te posso dire Ti aspettavi un testo un pochino più Più complesso Un po' più complesso Perché dove non arriva con la voce Lui arriva con la penna Però E qui parla il maestro E qui parla il maestro Tairelli Il Sirano di Trastevere Tair Hussain Ma noi adesso stiamo parlando di Sanremo Un luogo Chissà magari sarebbe bello Salire un giorno Chissà Chissà Sul palco dell'Ariston Dell'Ariston Però io come assessore ai trasporti Della provincia di Imperia Io vorrei salire solo per quel momento lì Sarebbe bellissimo Ma avere la possibilità di parlare magari con qualcuno Che sul palco c'è stato O c'è stata Sarebbe una grande occasione Per esempio E guarda un po' Ci rivediamo proprio qui oggi Benvenuta Matilda De Angelis Alla prima puntata di Cashmere Incontra Netflix Ciao Ciao Grazie mille Grazie mille Grazie a voi Complimenti per il look Che hai scelto Sì Quest'oggi Stai citando Hai picchiato Orkomi E gli hai rubato la giacca Sì Ero molto invidiosa Ero molto invidiosa Anche tu sei arrivata con la maschera Sì poi l'ho tolta subito Esatto Perché mi ero resa conto Che non si riusciva a cattare Un problema lì Se ne ha reso conto lì Mentre scendeva le scale Allora grazie mille di essere ospite da noi Com'è vedere Sanremo dopo esserci stati Mattilda De Angelis Beh rassicurante Rassicurantissimo Ah rassicurante Sì rassicurante Veramente rassicurante Cioè il pensiero Di essere dietro le quinte A una serata di Sanremo Mi terrorizza veramente Cioè dopo averlo fatto Ti rimane quell'incubo Come della maturità Capito quelle cose impossibili da superare Un flashback Sì ogni tanto ti svegli la notte Ogni tanto sei a Roma guidando Così di Oddio ti andrà sul pacco Esatto Monologo sui baci Oddio No ok Sto in macchina tranquillo Tu sei un po' scorretto Sì Tu sei un po' scorretto È stato un momento l'anno scorso Ok c'è stato Non mi fate dire parolacce Posso dire Rubato di nuovo quest'anno Perché poi Fiorello l'ha riproposto E infatti Questa foto È vero È vero No è stato bello È bellissimo guardarlo da casa Cioè ha funzionato talmente bene Il tuo monologo Che l'hanno rifatto quest'anno Mettendo delle labbra finte Su due mascherine Una per chi erano Capo di Rai 1 Esatto Coletta È stato un bel momento È stato un bel momento Sì sì Non hanno più idee probabilmente Gli autori Non sanno più come fare Non sanno più come fare Parole forti Parole forti Parole forti Cashman incontra Netflix Un po' la terza camera Se vogliamo Un po' il porta a porta Dell'intrattenimento Quello vero Senti altri momenti Che hai apprezzato Della puntata di ieri sera Beh guarda È iniziato Si è aperto il sipario E si vedeva solo La moglie di Amadeus Hai visto Giovanna Lei così Gialla E poi C'erano le corisse Vestite da spose Non ho capito perché Questo C'è stato questo Vabbè Strano Sì non so perché L'hanno vestite da spose Erano vestite da spose Cioè Perché era forse Ma è innegabile Che fossero vestite da spose Erano vestite da spose Ci possiamo informare Sì abbiamo pensato Alla natalità forse Io chiederei A Ingollarci a fare figli Un omaggio alla natalità No Carmelo Ha qualcosa da dire? È una cosa seria Io ho pensato agli sponsor Cioè? Beh qualcuno Che vuole pubblicizzare Degli abiti da sposa La fiera di Roma Della sposa Roma sposa Roma sposa Arriva a Sanremo The day cover Su Sanremo Il palco più importante L'Italia Il giorno più bello Davida tua Può darsi pure Che fosse una cosa del genere Dici si notava La moglie di Amadeus Sì Sembrava Sì Si notava In modo Questo è proprio I primi Cinque minuti Del festival Che sono quelli Dove sto più attenta Poi dopo un po' Mi perdo Sì bisognava settare Il contrasto del televisore Esatto Praticamente Possiamo dire In color correction Ma è andata bene Non è stato Un festival Una prima serata Secondo me Particolarmente Esplosiva Con particolare Competizione Nel senso C'è stata Quell'esibizione Blanco Mahmood Abbastanza Sì Quella apprezzata Schiacciante Diciamo Un po' epica Iman e Skin Carini Che sono tornati Sul palco Damiano che ha pianto Insomma Tutte quelle cose carine E Anamena Ma ne avete già parlato Mi sembra che avete già detto tutto E intanto siamo già A tre persone che citano Anamena Esatto Io lo dico E puoi vedere che qua Entriamo nel toto vincitore Non so Perché l'anno scorso Ricordiamo L'anno previsto La vincita Dei Maneskin Veramente Edoardo Ferrario Per amore Fortuna e lavoro 06 8 9 8 9 8 9 Senti A proposito Dei Maneskin Esatto Degli amici Maneskin Allora Quello è stato un momento Che tutti noi Insomma ci ha tenuto Abbastanza col fiato sospeso Perché comunque Non era mai successo L'ho detto anche Amadeus Che un conduttore Uscisse Dal palco Salisse Su Un rischio Non si sa Era la golf car Del papa Sì esatto Era quello Sì Tanto è vero che Bergoglio Ieri voleva andare A prendersi un caffè Sì un kebab A San Giovanni Lui generalmente ci fa Con la papamobile E è uscito E ha detto Ma Nadia l'ho prestata La mia papamobile Come fa E vabbè E se fa chiamare Un delivery E se è fatto arrivare A San Pietro Non è quello il punto Ci ha però lasciato Col fiato sospeso La scelta di Amadeus Di caricarsi Dei vincitori mondiali Di tutti i festival Forse i quattro italiani Più famosi del mondo Del mondo Del mondo Esatto E di portarli Poi non si sa Per sequestrarli Portarli verso l'Ariston Nessuno sa che cosa è successo Però c'è stato un bellissimo momento Quando ha detto Se andiamo di là Arriviamo al mare Esatto Quello sembrava l'inizio Di una storia straordinaria Di una storia straordinaria Quello secondo noi È il momento To Doom Della puntata Di ieri sera Della puntata di ieri sera Tu sei Amadeus Hai i maneskin Su quella specie di Rishow Senza cavalli Però Ce li hai Dove Rishow senza cavalli Che sei Henry Ford Abbiamo inventato Un Rishow senza cavalli Una macchina Ragazzi Quando si dice che a Roma C'è un problema di traffico Io vado in giro Con un Rishow a cavalli Se permettete Inviterai tutta la popolazione romana A fare altrettanto Dice Se andiamo a sinistra Andiamo al mare Allora Se lui avesse proseguito Verso il mare Con i maneskin Luca Ravenna Cosa sarebbe successo? Si va a cercare Un posto dove mangiare Ok In Liguria Come prima cosa Trattoria Pesce Perfetto Ma siccome Cioè mare e monti Ok Allora Il cameriere Ligure Vestito come noi Tra l'altro Immediatamente capisce Che sono degli stranieri Cioè non sono Liguri Esatto Allora Come prima cosa Non siete benvenuti Allora Quanti è che dovete mangiare Che hanno fatto Una vita a Las Vegas Ma ne frega un cazzo Allora C'è rimasto Il pesto Bellincio Abbiamo quattro ragazzi Il signor Amadeus No guardi sono i maneskin Non mi interessa Non mi interessa nulla Non mi interessa nulla Allora Posso Posso consigliare Abbiamo del pesto In barattolo Preso al supermercato Sono 15 euro 15 euro Si Gli fa pagare Fanno tutta la cena E poi Amadeus Si deve portare Che non so Ma poi perché Se li doveva rapire Qual era l'obiettivo Di Amadeus In realtà L'obiettivo Secondo me L'obiettivo Era chiedere A Ethan Torchio Come fa Ad avere capelli Così tanto lisci Perché in realtà L'unica cosa Che davvero Amadeus Può invidiare A persone di successo È quella Capigliatura fluente Però attenzione Amadeus Ha i capelli Meglio pettinati Della studio Visti da vicino Sì Sono pettinati In un modo straordinario Sì bellissimi Grazie Per avermi dato corda Siamo lì Quindi va benissimo Ok cena al ristorante E li porta A dei matrimoni Perché questo In questo caso La gente Perfetto Sì li porta I matrimoni Matrimoni di coppie Liguri Adesso però Un momento Perché noi Teniamo una ragazza Scatenata Victoria De Angelis Vai sul palco Facci vedere Chi sei questa ragazza A sentire Poi ieri Victoria De Angelis C'aveva freddo Ieri Sulla Pamobie Ci credo È giustamente Perché facevano Poi avrà fatto freddissimo Freddissimo E l'ha fatto notare L'unica L'ha detto Proprio ha detto Lei è romana Forse Leggermente Credo di sì Leggero accento Sta morito a freddo Ma so Fa freddo Mi dispiace La papamobile Non tiene i finestrini Non so che cosa dirvi Quindi benissimo Matrimonio Ligure Fantastico C'è un momento Alla fine C'è un momento Alla fine In cui Ok vabbè Allora questi sono i soldi Per i ragazzi Sono 50 50 E adesso si torna Alla spiega Cari amici No è stato È stato un bellissimo momento È stato un bellissimo momento Sì E poi guarda No io devo dire Ho apprezzato moltissimo La loro esibizione Perché sono tornati A far vedere Il loro valore Perché davvero no Si sono meritati Tutto quello che gli è successo Quest'anno Beh sì Perché sono proprio più bravi Cioè sembrava ci fosse Uno Beh è anche vero Che non erano in gara Quindi la tensione Forse è un po' Non lo so Cioè Tu li vedevi molto tesi In gara No 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 Io in realtà li vedevo Abbastanza tranquilli Anche l'anno scorso Non mi ricordo Se li ho Forse li ho presentati io Comunque li ho incontrati Detro al palco Erano Cioè loro sono proprio rockstar Hai fatto Cioè hai detto Non so forse li ho presentati io Quindi come dire Forse ho lanciato io La carriera dei mani No no Ora io È merito mio Caro Amadeus Che ieri ha detto Scusa Eh sì Mi sono Ha detto un paio di volte Che sono italiani Amadeus Sì se non sbaglio sì Loro sono proprio italiani Sono italiani Hanno proprio la carta di identità italiana Sono italiani Pizza Caffè E Migliori nel mondo E Mane Skin I migliori nel mondo No erano tranquilli No erano tranquilli Loro sono proprio animali da palcoscenico Secondo me poi Sono comunque stati lanciati da un altro talent Quindi secondo me loro ormai ci sono abituati Poi penso che quest'estate sicuramente hanno fatto dei palchi assurdi Quindi sono arrivati comunque un po' coatti Sì Secondo me Mick Jagger gli ha dato un consiglio a Damiano Che cosa E ha detto guarda quest'anno la canzone rispetto all'altra Tu iniziala facendo Au Perché è stata l'unica differenza È vero Rispetto a come l'hanno Eh Ha fatto quella È vero Quella specie di mia golata all'inizio Che però ha cambiato molto È vero Il pezzo Ma l'anno scorso senza assolutamente dire no Ma hai visto qualche artista che stava per esibirsi Che se la stava letteralmente facendo addosso Cioè stava proprio No io sono stata segregata dentro un camerino Quindi non ero autorizzata a parlare con gli artisti È vero perché l'altro anno poi c'era la situazione per cui non si poteva vedere nessuno Non si poteva vedere nessuno Sì Ti portavano tutto fuori dalla porta della camera d'albergo Io ho visto Aiello uscire dal palco Dopo la sua esibizione Wow Wow Che bello Possiamo ricordare? Sì Possiamo ricordare Certo Quando siamo a sorolare Signora i limoni Signora i limoni Signora i limoni Uscire Che sicuramente si stavano cagando addosso Poi dopo insomma erano abbastanza tranquilli Sì al primo giro Alla prima canzone C'era tensione fra Fede e Zena Perché lui l'aveva fatto un paio di Cioè tipo iniziando a cantare Lei l'ha guardato Stai sbagliando tutto Federico Adesso puoi per cortesia Che bene il tuo lavoro Ti prego abbiamo detto no Bene E poi è andato tutto bene Orietta Berti che aveva fatto un casino allucinante Si era fatta inseguire dalla polizia Aveva lagato la stanza dell'alberga Aveva passato l'alberga La serata ad asciugare il bagno Con gli asciugamani Sì è vero I nazi skin No I nazi skin L'hanno scorso Era la quota Morgan Era la quota Morgan del festival Sì No vabbè Infatti quest'anno l'ha vestita da virus peperino No Lei è la nostra ledigaga Tu non capisci Lei è la nostra ledigaga Tu non capisci niente Mi confondo sempre Infatti adesso faranno un film su qualche altro grande brand di moda Che mi viene in mente Che sto facendo uno slalom per non dire Esatto A Starisborn Esatto E lei sarà La nuova Coco Chanel Bravo Prego La nuova Coco Chanel Fida di Senti e invece Da attrice Parlando anche un po' del festival di quest'anno Preferiresti interpretare Un biopic Su Giovanna La moglie di Amadeus O su The Young Eva Cioè la giovane Eva Zanicchi Cosa preferiresti fare fra le due? Ma è durissima questa scelta Sai come si chiama Guarda sai come quando ti propongono due film bellissimi insieme Ti sarà capitato che devi scegliere Forse comunque vado su Giovanna Su Giovanna Il film si intitola Scossa Scossa Sì perché poi mi immagino che vado a prendere tutte le lezioni di ballo Certo Per imparare tutte le mosse Lei ieri sera si è cambiata Avete visto a un certo punto Prima c'era questa macchia gialla così Poi a un certo punto si è vestita di nero E nella parte di Amadeus in questo grande film A chi ci va? Adam Driver Adam Driver Ah sì 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 Adam Driver as Amadeus Ah quindi è un film internazionale Sì 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 È un film internazionale Vabbè c'è Recitato in inglese chiaramente In inglese però all'italiana Quindi Adesso I'm on the wifi I know Adesso Mr. Amadeus Got the big nose Quindi intendi in russo Se ho capito i riferimenti rispetto al film Sì sì no Chiudiamo Welcome to the festival di Sanremo Sanremo This is a very important festival Yes I'm here with my wife She's name is Giovanna This I'm telling It's a lovely place It is a very beautiful place It's beautiful to be here Look at this beautiful flower That I bought to my wife Giovanna Ah Amadeus You're so sweet Oh yes I really love you so much My Giovanna Eh questo Questo sarebbe un bel film Che vorremmo vedere Compare con un quenino frassica Che ha vestito a caminiera a un certo punto Che dice le sue Non ho visto nino frassica ieri sera Ah Cioè Tahir che ha apprezzato Una battuta di nino frassica Particolarmente Giusto Io non prendo i taxi Perché sono no tax Mi è parte una risata isterica Ho svegliato i miei cani Sì sì Lo so Lo so Ho visto Ci hai mandato anche delle gif Nella nostra chat Che non faremo vedere Non faremo vedere Ma nero Né quelle Né i grandi commenti musicali Di Carmelo È vero Perché Carmelo a un certo punto Ha fatto delle Carmelo Ieri ci hai scritto Delle cose molto belle Ci vuoi dire un pezzo Che ti ha particolarmente colpito Cioè voglio dire Deluso Conoscendoti E farci un attimo Una recensione delle tue Guarda infatti Mi sono promesso Quest'anno di essere buono E piuttosto che criticare Ho creato una serie di premi Che voglio dare quest'anno Posso partire con il primo Che mi viene in mente Il premio Miglior brano da ascoltare Da un parrucchiere bisex Va a Giussi Ferrero Giussi Ferrero È un mix Con la famosa Casa di produzione Di merendine Delizioni Giussi Ferrero Da oggi Anche al cioccolato bianco Da oggi Anche con le nocciole Benissimo Quindi tu dici Che quel pezzo lì È perfetto Guardi Mi fa corti ai lati E un pochino Più lunghi sopra Andiamo con la macchinetta Andiamo con la macchinetta Quei posti dove Dovete aprire il cappuccino Prima di tagliarti Non so Dov'è che va Al massimo Il caffè Che è che ti offre Il cappuccino Vai a tagliarti il caffè I capelli da Starbucks Lo dirò alla prossima Sono quei nuovi posti Un po' Radical Sheet Un parrucchiere Un parrucchiere Un parrucchiere che fa solo un malletto Sì La malletteria Doveva carmelo avanzato Io ho delle idee di B Quasi quando parliamo Ma tu ce n'hai tante Sì ma facciamoci Quanto un planning De cose Comunque Lo spot della Liguria È bello che c'è la Canalis No? La mia Liguria Tipicamente Ligure La mia Liguria È una regione Che io veramente amo E abbiamo il mare Abbiamo un'introterra Senz'altro montuoso Eia Eia Si vive molto di allevamento Pastorizia Ma dateci fiducia Perché qui facciamo Portocervo a un uomo Chi avrebbe potuto chiamare? Sabrina Salerno Grande Per fare pari Dalla provenienza Sabrina Salerno È Ligure Non mi viene in mente Carmen Russo pure Carmen Russo e Ligure Ammiccando a un pubblico Un po' più agé Forse Sì Anche Sì Beppe Grillo Paolo Villaggio Vabbè Testimonial di Liguri Fra i vari momenti Della serata Uno che devo dire Un po' ci ha colpiti Ne abbiamo parlato ieri È stata quella sorta Di sfilata Assurda Che hanno fatto fare A Dornella Muti Quando Messa sullo sgabello Di fronte a Amadeus Ornella Muti Comunque La storia del cinema E l'intervista era Raccontaci del tuo rapporto Con tutti questi Grandissimi uomini Raccontaceli tutti Sembrava Lo bombi o lo passi Sì Era l'equivalente Di quel momento Di quel momento È vero È stato un po' triste È stato un po' Soprattutto Nel senso Indelicato Nel senso che Alla fine È come Sembra sempre che le donne Vivano di luce Riflessa Come quando un giorno Mi chiederanno Com'è stato andare a Kashmir Con E' Guarda Guarda Esatto Così Tutto Bellissimo Bello Sto scherzando A proposito di podcast Matilda Esatto Madonna Che traguardo Matilda Spero veramente Che succeda Te l'auguro Io anche Però comunque sì Insomma A parte gli scherzi È stato svilente Un po' anche da donna attrice Anche vedere una cosa del genere Però sono anche una Che crede Nell'autodeterminazione femminile Quindi alle volte Secondo me Basterebbe un po' Farlo notare Anche prima Comunque io sono stata al festival Quindi so perfettamente Che c'è un dialogo Con gli autori Si possono avanzare proposte Io insomma L'anno scorso Volente o non volente Un po' di spazio Me lo sono ritagliato Quindi secondo me C'è sempre poi La possibilità di dire Guarda Secondo me Questa cosa Fa un po' cagare Possiamo farne un'altra Quindi Infatti Non vorrei sempre Dipingere le donne Come povere vittime del sistema Perché secondo me C'è sempre la possibilità Di poter Essere attivi E proattivi Nel cambiamento Quindi ecco Finito Ti vorremmo chiedere una cosa Infatti Di Stefano Corsi Bravo Bravo ragazzo Simpatico E di Hugh Grant invece Eh bello Simpatico pure lui Benissimo A posto Non abbiamo più altro Però inglese Ah però inglese Inglese Si con il momento Capito Basta Però siamo Siamo moderni Quindi dobbiamo anche Ok Nicole Kidman anche Brava Bella Bello Ok Va bene Abbiamo chiesto Ma quello si sembrava Un po' diciamo Vecchio stile Eh un pochino si Abbiamo dei fiori meravigliosi Per Matilda Solo per te oggi E anche questa pianta Esatto Te la puoi portare a casa Prendi sta che ansia No ieri era per tutti maschi Maschi e femmine Tutti i partecipanti Ora i fiori sono Sono No gender No gender Fior Sono fiori 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 Senti Tu hai dei progetti Prossimamente in uscita No Guarda No Non voglio dire niente Grazie perché non siamo capaci Di fare questa parte Esatto Guarda questi momenti così Non li sappiamo fare E ci ha aiutato tantissimo Allora è importante No io ho appena finito di girare Dopo cinque mesi estenuanti Una serie che Parla della prima donna Avvocato d'Italia Al 1800 In realtà lei Ci ha messo 60 anni A farsi riconoscere All'ordine degli avvocati Ha dovuto passare Due guerre mondiali Sai quelle cose Che insomma le donne Hanno dovuto fare Per ottenere una parità Di diritti E poi sicuramente L'intervista alla Muti Spazza via Tutti ho questo lavoro Di centinaia di anni Capito Quindi Però È così Sono un po' Non voglio essere polemica Cashmere E Bobo Vieri No Non mi fate essere polemica E fa vedere uomini a casa Tutti i uomini a casa Bobo Vieri E Elon Musk Due parole Ornella Muti Su Elon Musk Bill Gates Cosa che pensi Grande imprenditore Certo Certo Insomma Ci ha portato il covid Bill Gates Ha fatto per i vaccini Si è inventato lui Ornella 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 Un momento Un momento Penso a girarsi una canna Scherzo Scherzo Vabbè Basta Abbiamo finito No diciamo Finito adesso Di girare Questi cinque mesi Entusiasmanti Entusiasmanti Bellissimi Ha detto Sono il tuo agente Tremala Falpe No no Entusiasmanti Dove Dove era ambientata? A Torino Ah beh da qui la fatica Capisco No Dolore Luca ha un rapporto Conflittuale Un pochino con Torino Città diciamo Vabbè È milanese Considera Città bellissima Io sono bolognese Quindi Per voi è tutto Una grande università È tutto un grande portico È tutto il piacere È tutta una grande piazza dei martini Noi stiamo bene Noi stiamo bene Sì sì Bello bello Quindi è finito di girare Torino Cinque mesi Prima da un'avvocata d'Italia 1800 Bustini Cappelli Giacche Mi piace pensare Che comunque Era una parafangara La prima avvocata d'Italia Cioè comunque C'era solo codice Della storia Gli incidenti Su quelle cose Truffe assicurative In ogni caso Era quella cosa lì No sto scherzando Immagino che sia Veramente l'avvocato dei poveri È stata una grande Una grandissima donna Ed è stato proprio bello Interpretarla Nel senso che poi Ti rendi conto che Quando in una In un mare di ruoli Che sono sempre a servizio Di personaggi maschili Hai un ruolo Da protagonista Assoluto Che vive Per sé È figo poterlo fare Quindi insomma Sono stata contenta Nonostante La fatica Estenuante Non vediamo l'ora Di vederla A questo punto Data la fatica Così Estenuante Estenuante Hai fatto Hai fatto l'accento Piemontese No assolutamente no Che miseria Peccato No anche perché Lei è della Val Germanasca Quindi Ragazzi È a Pinerolo Cioè nel senso Poi 1800 Non è che parla Mi chiami Dan Non è che parlano Come oggi Ah certo Parla come busta Che imitazione era Infatti Non era possibile Quindi siamo tenuti Su un italiano Vago Benissimo Grazie Grazie Matilda No scusate volevo ricordarlo No 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 Noi ti ringraziamo Per essere stata con noi Qui a Cashmere incontra Netflix Un Tudum Un Tudum morbidissimo Ringraziamo Tair Carmelo Grazie Carmelo Grazie Luca Alice Cecilia Ah posso dire che c'ho il vestito dei David Comunque Ah perfetto Vedi Eh ma infatti Non c'era visto No 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 Ma hai fatto bene a dircelo Perché infatti sta giacca mi ricordavo Non so Cioè non erano i David Non erano i David Donatello Erano i David De Mirco Conotti Che praticamente Ha un concessionario Di Harley Davidson Poi non vedete ma dietro c'è scritto Els Angels Booster Sizzio Els Angels Booster Sizzio Rcomi Appreciation Benissimo Signori grazie mille E noi ci rivediamo domani Per un'altra puntata di Cashmere incontra Netflix Un Tudum Morbidissimo